Buongiorno, oggi voglio mostrare il rilevatore di trasmettitori video, praticamente un video scanner. Il prodotto si chiama Camera Hunter, lo potete trovare sul nostro sito internet su www.spiare.com. La peculiarità di questo prodotto è che ha un monitor incorporato, che adesso vi farò vedere in funzione, e che ha un lettore di frequenza. Cioè è possibile, con questa apparecchiatura, poter individuare i trasmettitori audio-video delle microcamere o telecamere nascoste, per esempio. O altrimenti può essere utile quando occultiamo una telecamera o una microcamera in un punto, magari se lo stiamo su una scala, questo scanner ci permette di vedere l'immagine e vedere se la telecamera è indirizzata bene. Il rilevatore è alimentato da qualche batteria a stilo, oppure ha l'alimentazione esterna, che possiamo prendere da qui, da 5 volt, 225 volt. Poi qui abbiamo una serie di entrate per degli accessori, qui in particolare c'è il pulsante per l'accensione dell'apparato, e qui sopra ci sono due uscite audio-video. Ok, questo è il kit che non si presenta, praticamente abbiamo le due antenne, abbiamo l'apparato, l'alimentatore e la cavetteria varia. Adesso vi farò una dimostrazione. Allora, qui vedete questa radio, perfettamente funzionante, che ha una microcamera occultata qui davanti sulla plancia. Praticamente c'è una microcamera, sono telecamere occultate che facciamo noi in laboratorio. Adesso accenderò la radio, come vedete, come sentite, è perfettamente funzionante. Ok. Adesso metterò in funzione l'apparato, che rileverà immediatamente la telecamera a trasmissione. Ok. Ecco, c'è qui la rilevata. Qui in basso vi indica la frequenza. Ok, adesso mi accomodo in modo che così potete rivedermi. Mi dovreste già rivedere sull'immagine, vediamo se... Ok, eccola qua. Ok, in questo caso l'operatore mi indica che non si vede bene, io mi alzo, così ve la faccio vedere proprio bene. Naturalmente vedete solamente la scrivania. Qui sotto dovreste vedere la frequenza di trasmissione che è 1160 MHz. Ok. Perciò in questo caso se io faccio una bonifica in questo ambiente, con questo apparato, nel momento in cui vi rivedo qui sul monitor, capisco che c'è una microcamera puntata verso di me che è posizionata in quell'angolo della stanza, in quel caso è occultata dentro la radio. Non c'è cosa più facile e semplice per poter rilevare, localizzare una microcamera nascosta in un ambiente. L'apparato in vendita rivelo su www.spiare.com. Vi auguro una buona serata e arrivederci.